Per trasmettere telematicamente i file tramite il canale Entratel del desktop telematico, bisogna richiedere l'abilitazione ad Entratel e quindi predisporre il desktop telematico generando l'ambiente di sicurezza. Vediamo i passi che ci porteranno a tale operazione. Passo 1. Pre-iscrizione. Passo 2. Presentare la richiesta direttamente all'ufficio o tramite PEC. Passo 3. Primo accesso. Prelievo dati. Passo 4. Generare l'ambiente di sicurezza nel desktop telematico. Passo 1. Pre-iscrizione. Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre richiedere la pre-iscrizione al servizio. La pre-iscrizione al servizio dovrà essere richiesta mediante la funzione specifica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Al termine verrà visualizzato un documento attestante l'avvenuta pre-iscrizione con protocollo della richiesta, progressivo della richiesta e codice di pre-iscrizione. Passo 2. Presentare la richiesta direttamente all'ufficio o tramite PEC. Per presentare la richiesta si dovrà compilare il modulo di richiesta e ottenere l'allegato per l'ufficio tramite la funzione web. Questi documenti possono essere presentati direttamente in uno degli uffici della regione di residenza oppure inviati via PEC, una volta posta la firma elettronica. Una volta presentati la richiesta ed il relativo allegato, l'ufficio rilascerà l'autorizzazione che conterrà anche il progressivo sede ed il numero della busta. Passo 3. Primo accesso, prelievo dati. A questo punto inseriamo i codici in nostro possesso nei relativi campi attraverso la funzione web dell'Agenzia delle Entrate denominata prelievo dati. A questo punto ci verrà data conferma del primo accesso fornendoci nome utente, password e codice PIN in tre sezioni differenti da inserire in seguito nel desktop telematico. Passo 4. Generare l'ambiente di sicurezza nel desktop telematico. Siamo adesso pronti per aprire il desktop telematico. Entrando nelle impostazioni dal menu file apriremo la voce applicazioni con un doppio clic ed imposteremo per Entratell l'archivio documenti, indicando la cartella di riferimento contenente tutti i file telematici predisposti con Entratell e il percorso ambiente di sicurezza, ovvero il percorso dell'ambiente di sicurezza magari creando una cartella ad hoc per esso su un supporto rimovibile. Al termine concluderemo con ok. Adesso potremmo procedere generando l'ambiente di sicurezza. Chiudiamo eventuali altre applicazioni aperte. Dal menu applicazioni scegliamo la voce Entratell e dal menu sicurezza scegliamo la voce imposta ambiente. Verifichiamo che nel campo percorso del supporto di sicurezza vi sia il medesimo percorso in precedenza da noi indicato e premiamo il tasto genera ambiente. Andando avanti visualizzeremo la maschera che ci chiederà di inserire il codice PIN contenuto nella sezione 3 del documento conferma primo accesso, il codice fiscale dell'utente abilitato al servizio Entratell, il progressivo di sede rilevabile nel documento dell'avvenuta abilitazione a Entratell. Un PIN di revoca ovvero un codice scelto a piacere da 15 a 20 caratteri lettere non accentate e o numeri. Verrà poi richiesta la password di protezione del supporto inserito da ripetere anche nel campo successivo ovvero un codice scelto a piacere da 8 a 15 caratteri lettere non accentate e o numeri. Premendo il tasto avanti verranno generate le coppie di chiavi asimmetriche e sul supporto fisico verranno creati 3 files a tale scopo. Verranno inoltre riepilogate le informazioni in precedenza da noi inserite che dovranno essere valutate se corrette e confermate con il tasto avanti. Per poter completare il procedimento vi saranno ancora due passi da svolgere. Passo 5. Invio della richiesta di certificazione file rec.ccc e importazione dei certificati direttamente da desktop telematico. A questo punto desktop telematico dovrà connettersi al sito dei servizi telematici. Indicheremo il codice utente e la password riportate nella sezione 2 del documento abilitazione conferma primo accesso e nel campo codice PIN. Nel codice PIN che si ricava estraendo dal PIN code rilasciato nel documento abilitazione conferma primo accesso i primi 8 caratteri corrispondenti alle posizioni dispari e dovremo indicare nelle opzioni se l'invio è per conto proprio o per conto di altro soggetto dal quale si è incaricati indicando le informazioni richieste per tale scelta. Se l'invio della richiesta di iscrizione è andato a buon fine nella maschera viene riportato il successo dell'operazione ed il numero di protocollo di ricezione che attesta l'avvenuta acquisizione del file da parte del sistema e l'utente può procedere alla fase successiva in porta certificati premendo il tasto avanti controllando l'esito della richiesta. A questo punto potrebbe accadere che la procedura della richiesta di certificazione non sia andata a buon fine. Annulleremo il procedimento e completeremo la procedura via web tramite il sito dei servizi telematici come nell'esempio seguente. Dal menu sito web del desktop telematico sceglieremo servizi telematici ed accederemo al servizio inserendo le nostre credenziali. Utente password della sezione 2 del documento abilitazione conferma primo accesso e nel campo codice PIN il codice PIN che si ricava estraendo dal PIN code rilasciato nel documento abilitazione conferma primo accesso i primi 8 caratteri corrispondenti alle posizioni dispari. Cambieremo la password come richiesto, accederemo all'area riservata, il sistema ci riconoscerà e dal menu di sinistra sceglieremo la voce servizi per inviare e procederemo alla selezione del file da inviare scegliendo tramite il pulsante sfoglia il file rec.ccc presente nella cartella documenti di Entratel nel desktop telematico e premeremo il tasto invia. Se l'invio della richiesta di iscrizione è andato a buon fine il sistema informerà dell'avvenuta ricezione del file rec.cc. Nella schermata proposta verrà riportato il successo dell'operazione e potremo procedere all'importazione del certificato. Sempre dal menu a sinistra sceglieremo la voce ricevute, ricerca ricevute e tramite il tasto ricerca controlleremo la presenza del file contenente alla richiesta di certificato rec.ccc verificando che sia stato elaborato dal sistema con esito positivo. Clicchiamo sulla cartellina gialla per effettuare lo scarico del certificato e lo salviamo nella cartella ricezione dei documenti di Entratel del desktop telematico. Per completare l'operazione di generazione dell'ambiente di sicurezza con l'amplicazione Entratel del desktop telematico è necessario effettuare l'importazione del certificato mediante le seguenti operazioni. Inserire se necessario il supporto di memorizzazione che contiene l'ambiente di sicurezza in precedenza generato indicando il percorso tramite il tasto sfoglia. Indicare tramite il tasto sfoglia il percorso del file certif.in precedentemente salvato nella cartella ricezione dei documenti di Entratel del desktop telematico. La password di protezione dell'ambiente di sicurezza indicata nella fase genera ambiente. Premere il tasto import certificati e verificarne l'esito evidenziato nell'apposito messaggio fornito dall'applicazione.